Buonasera, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Carotigini. In apertura vediamo un aggiornamento sportivo, proprio in questi minuti si sta concludendo la gara Lupa-Roma-Rimini con i bianco-rossi in vantaggio 3 a 1. Vi rimandiamo poi per il finale alla pagina sportiva e parliamo dei 1.400 fedeli della diocesi di Rimini che con 21 pulmane mezzi propri hanno raggiunto oggi pomeriggio Loreto per il pellegrinaggio diocesano col Vescovo Lambiasi. Slogan del pellegrinaggio era, con l'aiuto di Maria portiamo ai fratelli la gioia del Vangelo. Dopo il saluto del Vescovo Lambiasi, i fedeli hanno ascoltato la meditazione di Don Deccio Cipolloni, vicario generale della prelatura di Loreto. Poi è stata celebrata la messa nel santuario, concelebrata da Monsignor Lambiasi insieme a numerosi sacerdoti riminesi. Il Vescovo ha rivolto una preghiera speciale a Maria, prima missionaria, perché accompagni l'anno della missione nell'anno del giubileo della misericordia. Ieri intorno alle 19 siamo alla cronaca, una volante della polizia di Rimini è intervenuta nella zona del centro commerciale in Malatesta, alle celle, dove era stata segnalata una violenta zuffa tra tre persone e gli agenti sul posto hanno trovato un uomo sanguinante all'occhio sinistro che ha raccontato di essere stato colpito al volto, senza motivi apparenti da due sconosciuti che si erano poi allontanati. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno identificato in un vicino Bari due aggressori, due italiani, evidentemente ubriachi e tutt'altro che arrendevoli. Hanno minacciato, insultato e spintonato gli agenti, uno dei due portato nell'auto della polizia l'ha resa inutilizzabile danneggiandola a forza di calci e anche in questura hanno dato filo da torcere agli agenti. I due sono stati arrestati per resistenza, minacce di morte e oltraggio a pubblico ufficiale. Uno di loro deve rispondere anche di danneggiamento aggravato ed evasione dagli arresti domiciliari. Uno è stato portato in carcere, per l'altro i domiciliari. Nessun danno, ma un po' di inevitabile preoccupazione per la popolazione per le due scosse di terremoto avvertite nel Pesarese tra ieri sera, quando alle 21.24 c'è stata una scossa di magnitudo 3.6 e questa mattina alle 9.21 con una magnitudo di 3.9. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Monte Feltro, dove molte persone sono scese in strada e anche in Umbria, nella zona di città di Castello. Tante le chiamate alle forze dell'ordine, ma dalle verifiche nei comuni dell'epicentro, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Sant'Angelo Invado, non si registrano danni. Questa mattina alcune scuole sono state evacuate, ma sono in via precauzionale. Secondo l'osservatorio sismologico di Perugia, si tratta di scosse in un distretto già noto e circoscritto nel raggio di pochi chilometri. Nel primo pomeriggio c'è stata anche una scossa a Reggio Emilia, ma di magnitudo minima, 2.0. Questa mattina, in Centro Storico a Rimini, si è svolta la manifestazione No Triv del Movimento 5 Stelle contro le trivellazioni in Adriatico, un tema che coinvolge anche la provincia di Rimini. Dall'arco d'Augusto è partita una simbolica catena umana per dire no alla possibilità di esplorare l'Adriatico alla ricerca di petrolio prevista dallo Sblocca Italia. Tra gli esponenti del Movimento in prima linea c'era anche l'europarlamentare Marco Affronte. Ragazzi, partiamo! Sappiamo che c'è questo rinnovato interesse per questi famosi giacimenti di petrolio che in realtà sono pochissimi e poverissimi in Italia. Secondo noi c'è ovviamente un risvolto di tipo ambientale molto molto pericoloso, noi siamo fortemente per andare verso altri tipi di energie che non si basano sulle fossili, non capiamo come mai dovremmo mettere a rischio il nostro mare, il nostro territorio per una risorsa che sta finendo e che comunque dobbiamo in ogni caso eliminare perché i cambiamenti climatici, tutto quello che portano a livello proprio di pianeta stanno portando delle conseguenze veramente drammatiche. Quindi è una manifestazione come tante che ce ne sono in questo periodo in Italia, in questo caso è proprio organizzata dal Movimento 5 Stelle ma noi abbiamo partecipato anche ad altre manifestazioni non direttamente nostre perché sentiamo fortemente questa battaglia come una delle nostre battaglie principali. Al momento sul referendum c'è abbastanza confusione, sono partiti dei referendum che sono del movimento possibile, insomma il gruppo di civati che riguardano le trivelle ma non solo. chi li ha letti e chi si intende diciamo di cose legali dice che alcuni di questi probabilmente non verranno accettati perché sono irricevibili dal punto di vista proprio della legislazione e inoltre sono stati fatti molto velocemente probabilmente anche per cercare un po' di visibilità a un partito che è appena nato. Invece in questo momento sei regioni si sono messe d'accordo per presentare dei referendum, se almeno cinque regioni presentano il referendum parte, quindi sono sei, questa è notizia proprio di ieri e noi probabilmente appoggeremo questi referendum perché comunque la battaglia referendaria per noi è importante perché c'è il coinvolgimento dei cittadini e in questo caso appunto come ho già detto è un tema che ci interessa molto. Emilia Romagna in tutto questo come si colloca? Emilia Romagna è l'unica regione dell'Adriatico che non ha dimostrato l'intenzione di avviare il referendum. Lo Sblocchitalia che è il decreto che ha portato a questa grande apertura verso le compagnie petrolifere va contro il referendum che nelle stesse regioni rosse stanno istituendo, tutti lo stanno facendo nonostante appunto vadano contro il loro stesso partito, l'Emilia Romagna no, preferisce mantenere lo status quo piuttosto che difendere la salute e l'ambiente. Parliamo di meteo, ultimi scampoli di clima estivo in Romagna, la protezione civile regionale ha emanato su tutto il territorio del Miglia Romagna un'allerta per temporali di 40 ore dalle 20 di stasera fino alle 12 di lunedì, nel mattino di domenica i fenomeni dovrebbero interessare principalmente la pianura centro-occidentale per poi spostarsi nel pomeriggio verso il settore est. Ai temporali saranno associati fulmini e forti raffiche di vento con rinforzi sul mare e sulla costa. Le temperature che negli ultimi giorni sono state oltre la media saranno insensibili e calo. E siamo al calcio, è arrivato anche, mentre leggevamo le altre notizie, il 3 a 1 del Rimini, è arrivato anche il fischio finale appunto della gara sul campo di Aprilia dove i biancorossi hanno centrato il primo successo stagionale dopo un pari e una sconfitta. Appunto il Rimini si è imposto per 3 a 1 sulla lupa Roma che era andata in vantaggio. Al ventesimo del primo tempo con Leccese, con la prima rete in campionato per i laziali, poi nel recupero del primo tempo il pari biancorosso di Martinelli sugli sviluppi di una punizione e al decimo del secondo tempo ha completato il Rimini il ribaltone con la rete di Torelli di testa su calcio d'angolo. Al ventesimo della ripresa i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione del capitano d'agostino e poi c'è stato appunto il 3 a 1 di Ricchiuti all'ottantacinquesimo. Ricchiuti che è subentrato al ventiquattresimo della ripresa a Ragazzo, preferito ancora da Mister Pane appunto nell'undici iniziale, mentre ha fatto il suo esordio dopo la squalifica, esordio in campionato, della Rocca. E' finita appunto 3 a 1 per i biancorossi. Per il ciclismo, Diego Ulissi ha vinto oggi il Memorial Marco Pantani che si è corso con partenza da Riccione e arrivo a Cesenatico. Ulissi ha preceduto Giovanni Visconti e Vincenzo Nibali, con i quali era evaso dal gruppo a una settantina di chilometri dal termine. Ulissi e Nibali tra l'altro partiranno lunedì alla volta di Richmond per il campionato del mondo. È tutto, a seguire le meteo vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, una buona domenica.